Questa mattina sono sbarcati al porto di Pozzallo i migranti della nave Ocean Viking. A bordo 104 persone salvate lo scorso 18 ottobre. Tra queste ci sono 41 minori, 27 maschi e 14 femmine. 14 hanno meno di 15 anni e ci sono due bambini piccolissimi. In merito alla procedura di ricollocazione dei migranti che ha permesso di sbloccare la situazione, la Francia e la Germania hanno accettato di accoglierne 70. I migranti accolti dalla struttura di operatori vengono trasferiti a bordo di un pullman in direzione dell'hotspot di Pozzallo. La maggior parte dei migranti a bordo proviene soprattutto dalla costa d'Avorio, ma anche dal Mali, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Guinea e Camerun. I numeri però definitivi arriveranno dopo il completamento delle procedure di identificazione.